Due anni di pandemia e tre anni scolastici interessati dall'emergenza sanitaria. Una sfida senza precedenti per presidi, docenti, studenti. La scuola non si è mai fermata, trovato durante il lockdown e le quarantene, strade alternative come la DAD. Argomenti messi sotto l'entra nell'importante incontro ospitato dall'Istituto Balilla Pinchetti di Tirano. Ospite Alessandra Migliozzi, capo dell'ufficio stampa del Ministero di Istruzione, che ha presentato il suo libro dal titolo La scuola non si ferma, racconti della pandemia. Guardando al futuro. Ad assistere alla speciale lezione, gli studenti delle classi terze e quarte del liceo scientifico. Alle riflessioni su ciò che è stata la pandemia, si sono affiancati i possibili scenari futuri che attendono il mondo della scuola. Sempre più rilevante il ruolo assunto dalla comunicazione in seno al Ministero. E l'incontro tiranese, coordinato dalla dirigente dell'ufficio scolastico di Sondio, Fabio Molinari, va proprio in questa direzione. A Faglione di Casa, Rossana Russo, dirigente dell'Istituto Pinchetti. Il primo messaggio che voglio lanciare a voi ragazzi, ha esordito Alessandra Migliozzi, è di essere coraggiosi. Pensate sempre al futuro in modo concreto, immaginando ciò che potrete essere e seguite il vostro istinto. Ricordatevi che siete fortunati, avete ancora un'età in cui vi è concesso di sbagliare e tornare sui vostri passi. Fino a ieri pensavamo di essere forti e moderni, ha sottolineato l'esponente del Ministero. Invece la pandemia e la guerra ci hanno mostrato la nostra fragilità. Parlando con i tanti ragazzi che ho sentito per il libro, ho visto come dimostravano una forte alleanza con i loro genitori. Questa generazione sa mettersi accanto agli adulti, è più disposta all'ascolto, forse proprio in virtù di questa percezione della fragilità. E in futuro cosa ci attende? La scuola può forse divenire un luogo più fluido, dove stare anche dopo le ore di lezione, per stare insieme, per sfruttare tutte le opportunità che può offrirci l'auspicio di Alessandra Migliozzi. Occorre mettere in luce gli aspetti positivi di questa stagione, così che essi possano essere ricompresi nella scuola del futuro, come ad esempio il mantenimento dei colloqui a distanza o i progetti del piano estate.